finalmente ti ho qui ciao valerio come stai pietro benissimo sono contento di essere anzi di essere tornato esatto perché è già uscito se non l'avete visto andata rimediare un video sul suo canale dove abbiamo parlato di un sacco di cose non vi spoiler tutto andate a vederlo e allora per chi non ti conoscesse però visto che qui appunto il mio canale ti faccio un mini mini presentazione tu sei psichiatra nella vita e però parallelamente porti avanti anche un progetto divulgativo su youtube dove racconti i temi di salute psicofisica psico mentale corregimi se sbaglio cose di questo genere nel senso che mi dedico a una divulgazione che sia moderna in quanto è caratterizzata da una sorta di approccio olistico alla persona cioè l'idea di non separare la parte sopra del nostro corpo da quella sotto e quindi non parlo tanto di parlo anche certamente di malattie mentali e di psichiatria ho iniziato così ma sempre di più mi sto spostando sull'idea di una concezione globale del benessere umano che include ovviamente anche la dimensione della gestione del denaro e infatti siamo qui per questo perché dopo anni a confrontarmi con persone perché appunto ormai sono non so però sul conto da quanti anni al canale un po a fuori di leggere commenti pareri di gente che mi dice un po la propria esperienza il proprio vissuto ho notato che ci sono dei pattern dei comportamenti ricorrenti a cui io a volte ho provato anche a dare una parziale soluzione con dei video decido giusto alcuni ma dopo li vediamo la difficoltà nel risparmiare e quindi un eccesso nello spendere in alcuni elementi la difficoltà nell'iniziare a investire perché si è spaventati perché ci sono tante cose però io finora le ho sempre trattate da un punto di vista molto problema soluzione senza necessariamente pormi troppo la domanda cosa ci sta dietro come mai queste persone fanno fatica c'è qualcosa magari di mentale che non mi torna e loro ho pensato chi meglio di valerio per provare a rispondere a queste domande quindi io direi di partire proprio con la prima che è quella che noto forse più di frequente ossia difficoltà nel risparmiare quindi tutta una serie di persone che escludendo ecco faccio la doverosa premessa escludendo chi non ha la possibilità di risparmiare perché c'è una situazione veramente difficile a livello economico però non credo stia a guardare questo video o comunque a cercare soluzioni in questo senso diciamo chi ha uno stipendio decente come è possibile che non riesca a risparmiare e che invece spenda moltissimo in extra non necessari cosa cosa gli passa per la testa è una domanda questa che è veramente complessa e potrebbe essere che la risposta possa realmente venire da uno psichiatra ovviamente bisogna fare una distinzione iniziale che è quella di separare chi ha problemi psichiatrici chiamiamoli maggiori e che invece si muove in quella che mettiamo fra molte virgolette essere chiamata la normalità ecco sicuramente ci sono delle patologie mentali che portano le persone a diventare incapaci a risparmiare perché spingono verso un utilizzo impulsivo del denaro denaro che è un oggetto dopaminico di assoluto rilievo della nostra società e certamente l'abbiamo caricato noi di questo significato diciamo non è paragonabile che ne so allo zucchero o alla cocaina siccome di dopamina se ne parla sempre di più però se vuoi fai proprio un esempio nel concreto di quello che accade quando si fa un acquisto come funziona ti faccio un esempio una persona che ha parliamo dall'aspetto patologico è una persona che affetta il disturbo bipolare in una fase euforica alle volte sono fasi che non si vedono così chiaramente nel senso che ovviamente l'occhio attento di uno psichiatra le può identificare abbastanza velocemente ma altre persone potrebbero dire quella una persona molto frizzante molto entusiasta molto forte energica in questo periodo però che cosa accade in tutta questa energia una persona inizia a diminuire l'aspetto di filtro che il nostro cervello fa sulle nostre scelte quindi in un mondo che è caratterizzato da continue proposte continue offerte possibilità di spendere denaro ovunque nella strada che abbiamo fatto per arrivare qua potevamo spendere quanto volevamo non fra centri commerciali bar ristoranti supermarket eccetera ecco in questo mondo qua una persona che ha un discontrollo dell'impulsività può veramente diventare superficiale nella spesa io ho dei pazienti che si sono ritrovati a fare spese veramente esorbitanti a indebitarsi con modalità esorbitanti adesso non faccio degli esempi perché non voglio neanche ricordare insomma a dare degli elementi per identificare delle persone però persone non so è come se io adesso decidessi improvvisamente di comprarmi un boeing 747 ok sarebbe tipico di una mattina dello psichiatra ecco questo è proprio una condizione patologica l'aspetto invece delle persone che ripeto normali cioè cos'è il meccanismo che porta a spendere troppo è qualche cosa che non è semplice da comprendere e che introduce una dimensione che è bio psico sociale la nostra felicità il nostro benessere è sempre di tipo bio psico sociale non dobbiamo credere a chi ci dice che insomma noi siamo solo questo corpo solo questa mente oppure solo l'interazione con l'ambiente noi deriviamo da questa da questo triangolo bene che cosa accade molte persone in questa società che sicuramente ci fornisce può fornirci un livello di qualità della vita molto elevato ci sono molte persone che non vivono bene che entrano su una giostra dopaminica in cui esistenze poco soddisfacenti molto stressanti dove lo stress spesso è nascosto quindi non si vede fonti di stress nascosto ce ne sono molti poi semmai le affrontiamo ecco in un contesto di questo genere l'acquisto diventa un elemento compensativo compensatorio e permette di avere quell'increzione dopaminica nel nostro cervello antico che permette di tollerare di tirare avanti e questo è interessante sapere che in questa società ognuno di noi può a seconda del suo potere d'acquisto spendere quanto vuole in ogni momento della giornata vari livelli io magari io e te che abbiamo insomma una situazione economica media magari anche medio alta abbiamo la possibilità di acquistare che ne so in due secondi un iphone se una persona ha solo un euro ti garantisco che in un centro commerciale la possibilità di venire che questo euro ti venga estratto prima che tu esci da lì magari comprando una collanina un innolo qualcosa ok quindi l'acquisto compensatorio è qualcosa di molto importante perché la spesa viene fatta su questa base quindi ho un po' di ritorno dopaminico in una esistenza che non mi soddisfa lo step successivo qual è che in questa scusa aspetta prima che passi allo step successivo diciamo ho vari tipi di insoddisfazione nella vita che potrebbero essere relazionale magari proprio economica lavorativa lavorativa questa molto e quindi questo tu me lo stai descrivendo più come uno sfogo se ho capito bene si chiamiamo lo sfogo tecnicamente lo definirei appunto diciamo comportamento compensativo compensatorio il lavoro è veramente un elemento molto importante perché discussione politica pubblica in questi giorni proprio a riguardo una discussione molto accesa sul salario minimo prende anche una grossa parte della nostra vita proprio in termini di quantità esatto c'è l'aspetto dell'investimento temporale quindi dal fatto che a un certo punto a fine giornata molte persone devono avere un qualche genere di ritorno dopaminico e cosa fanno o mangiano o comprano o usano sostanze e sono tutte e tre situazioni che richiedono del denaro e quindi ognuno di noi ognuno di noi qualunque sia il suo livello economico avrà sempre comunque anche inconsapevolmente riuscirà sempre a mettere da parte un po di denaro e questo è il tema che poi passeremo dopo sulla questione investimenti per fare queste tre cose per avere un ritorno dopaminico quindi step successivo step successivo cos'è che noi viviamo in una società in cui esiste il concetto di indebitamento ed è un concetto molto contemporaneo che ha cresciuto velocemente esponenzialmente nella nostra società allo stesso modo in cui io e te potremo spendere qualcosa in due secondi potremo indebitarci per qualcosa è vero che uno dice ma un medico cosa vuol fare si indebita ci avrà tutto più o meno quello che gli serve come però se io volessi decidere di compensare con una porsche probabilmente entro fine mattina riuscirei a indebitarmi per comprarmi una porsche sia io che te l'indebitamento è una cosa che ha delle conseguenze ancora maggiori rispetto all'acquisto impulsivo e quali sono queste conseguenze che entro in una spirale discendente in cui perdo di versatilità perché quel lavoro che odio diventerà essenziale per poter rispettare le rate del mio debito cioè quindi diventerà difficile per me cambiare ed è per questo che io ultimamente critico molto la la narrazione della resilienza ok che per carità ha un significato importante se è un elemento transitorio ma è un significato a mio parere persecutorio se diventa quello di resistere in un contesto socio ambientale veramente mostruoso in realtà io sto iniziando sempre di più a parlare alle persone di cambiamento radicale di essere disposti a sacrificare le regole di questa società le modalità con cui viviamo in questa società di porsi come diversi nei confronti di questa società e abbracciarli dal cambiamento radicale che vuole dire cambiare posto cambiare città eccetera ma ovviamente per cambiare bisogna avere comunque un cuscinetto economico sì quindi quello che sta dicendo il debito mi impedisce mi lega alla situazione attuale quindi poi non riesco più a muovermi ottimo esatto è una qualcosa che fa perdere la cosa più importante che abbiamo cioè la versatilità che vuol dire la libertà perfetto voglio stare prima di passare agli altri temi voglio star su questo perché tu hai parlato di comportamento compensatorio in termini di spese come faccio io persona che magari sto ascoltando in questo momento a rendermi conto se sto facendo una spesa di questo tipo o se effettivamente invece è qualcosa che desidero ok c'è un aspetto molto importante da valutare tutte le spese compensatorie hanno paradossalmente due caratteristiche una di non essere così utili da un punto di vista chiamiamolo molto pratico e il contraltare di questo non essere così utile è di essere impellenti cioè di avere dentro di noi di prendere la forma di una pulsione irresistibile ok lo vedo lo voglio lo vedo lo voglio e questo dipende veramente dal fatto che ci auto osserviamo poco quindi io il consiglio che darei sempre a una persona se vuole valutare a che livello di compensatorietà e la spesa che sta facendo vedere se è dilazionabile del tempo se si riesce a rimandare l'impulso a osservarsi come sai quando vedi nei film quello che vede la luce si osserva dall'alto come se fossimo in una sorta di premorte cercare di capire se quello che sto vivendo ha le caratteristiche dell'impellenza dell'immediatezza assoluta oppure no perché questo è il meccanismo di marketing che ci inchioda al che alimenta questo nostro meccanismo interno è molto bella questa cosa perché mi sto rendendo conto che magari consigli che ho dato in passato che vertevano esattamente su questo ossia io più volte dico vuoi fare una spesa non è urgente tienitela nel carrello 30 giorni adesso scopro il motivo è molto bella questa cosa è un bel consiglio è carrello delle piattaforme d'acquisto è veramente un terreno di battaglia non sai quante volte ho aggiunto roba che è rimasta gli anni per poi ricorda ma aspetta mi avevo aggiunto questa cosa forse nel 2020 ma la voglio ancora no ovviamente no un altro elemento stando sulle spese è ma se posso permettermelo perché non dovrei comprarlo e qui di solito si parla di spese grosse cioè l'orologio costoso la macchina costosa e chissà cos'altro un punto importante io scusami ti aggiungo l'ultimo elemento così puoi rispondere nel completo posso permettermelo di solito è anche associato a un voglio un po gratificarmi per il lavoro che ho fatto fino ad ora quanto questo meccanismo è positivo quanto invece sarebbe da sistemare allora interessante questa giunta perché allora la premessa ancora un'altra se io voglio gratificarmi vuol dire che c'è qualcosa nella vita che non funziona ok se io faccio un lavoro che mi piace un lavoro in cui sono ingaggiato in maniera piacevole con l'ambiente con le persone con l'obiettivo del mio lavoro ho difficoltà a immaginare che abbia bisogno di gratificarmi no nel senso in questo momento qua io e te ci stiamo divertendo stiamo facendo una cosa figa ok quando usciamo di qua probabilmente discuteremo su com'è andata e saremo felici di aver creato un contenuto e saremo felici di avere probabilmente aiutato qualcuno bene questo non richiederà nessuna gratificazione ok se io invece ho necessità di essere gratificato devo farmi delle domande ovviamente capire in che maniera posso cambiare la frase tipo è me lo sono meritato giustificando un acquisto me lo sono meritato proprio per il fatto che ho sopportato ok e questo è un po l'elemento poi ripeto c'è anche la possibilità di provare piacere perché è a un senso provare piacere però nuovamente la spesa dovrebbe avere delle caratteristiche di non impulsività e soprattutto di analizzare bene che cosa accade al momento in cui striscio la carta ricevo lo scontrino e pochi minuti o addirittura diciamo pochi secondi dopo esperienza comune tu che ci stai ascoltando probabilmente avrei avuto no io e te probabilmente avremmo già avuto l'esperienza di un acquisto che a seguire immediatamente ci lasciava una sorta di amaro dentro no certo mamma perché l'ho fatto ma non mi serviva poi così tanto nel momento stesso c'è una barriera impalpabile che rappresentata dallo scontrile della carta che ti senti quasi in colpa poi esatto questo paragone io lo paragono spesso anche alcune modalità con cui le persone utilizzano la sessualità cioè il post orgasmo paragonando orgasmo e strisciatura della carta che come acme del processo di acquisto e come acme del l'ingaggio relazionale con una con un partner no è un terreno importante da esaminare no perché se veramente c'è qualcosa di bello è fantastico no stare con la propria partner o col proprio acquisto no è o con il post pranzo o con il dopo sport con qualunque attività che abbia un andamento in cui c'è un acme e poi una risoluzione cosa può succedere invece che immediatamente dopo se abbiamo avuto un rapporto sessuale con una persona che magari non ci piaceva così tanto non ci interessava così tanto abbiamo primo pensiero è quello di andarsene allontanarsi che cosa ho fatto oppure una sensazione inspiegabile dentro bene è quello che accade spesso con i nostri acquisti una sensazione inspiegabile come se fosse finito l'hype che c'era prima è come se veramente lo strisciare della carta il dire è mio fosse veramente l'acme di un movimento simile orgasmico ok questo è molto importante qua nuovamente richiede osservazione consapevolezza molto bene il paragone voglio stare sul sull'ultimo elemento delle spese perché poi voglio passare agli investimenti e lì ci sarà da ridere ostentazione cioè faccio una spesa che è in grado di dimostrare ad esempio quanto guadagno che poi non sempre è necessariamente correlato però dovrebbe in teoria mostrare quanto guadagno quanto sono ricco come cosa puoi dirci su questo tipo di spesa quindi magari non so il vestito vistoso o la cosa che tutti sanno che è costosa e quindi nel momento in cui la vedo addosso a te o vedo che ce l'hai lo noto ecco cia palaniuk compriamo cose che non ci servono con soldi che non abbiamo per impressionare persone che non ci piacciono parola che riassume per me una fine del novecento appena appena passata e così succede una cosa che ha plurime dimensioni psicologiche delle dimensioni relazionali sicuramente quindi l'idea di mostrare per avere un ritorno si chiama narcisistico no il tecnicamente parlando quindi l'idea di essere agli occhi degli altri un po meglio di quello che sono o che penso di essere e poi c'è una dimensione anche intrapsichica cioè di ottenere un landmark qualche cosa che sancisca a me stesso che io valgo purtroppo il terreno del denaro e dell'acquisto è nuovamente il terreno su cui noi misuriamo queste chiamiamole prestazioni psichiche no rispetto agli altri è ovviamente qualche cosa che ci porterà fuori strada perché le persone hanno sopravvalutano quanto gli altri ci guardano in primo luogo no mediamente non so io vabbè oggi non so potevo mettermi qualcosa probabilmente tu non te ne saresti neanche accorto ok è un po come accade con le persone che hanno la fobia sociale no che sono timide come si chiamavano un tempo entrano in una stanza e hanno una sensazione dolorosa di avere gli sguardi di tutti addosso quando invece il dolore in realtà è di tutta altra natura perché nessuno ci guarda a meno che non sei taylor swift oppure no ed entri in un contesto di una festa ecco quindi in realtà c'è un'illusione iniziale che l'idea che noi siamo guardati tantissimo e quindi l'idea che il nostro valore dipende dagli oggetti che abbiamo addosso dagli orologi dalle automobili in parte può essere così in alcuni contesti mi viene da dire un po deteriori no in cui le persone si scelgono per il potere d'acquisto accade ancora ma inutile nascondersi dietro un dito faccio l'esempio proprio del mio settore molte volte no molte volte fortunatamente no poche volte mi capita di sentire frasi del tipo eh ma guarda che quel consulente finanziario lì c'ha il caso al polso quindi non gli affiderei mai i miei soldi o cose del genere o addirittura lo dicono su di me cioè ma che credibilità hai se non hai il rolex al polso cose del genere peraltro pietro ha una macchina fantastica non diciamo la marca no no ma l'ho già detto più volte l'ho fatto vedere anche io adoro la tua macchina quindi sì ci sono degli ambienti dove questa cosa è ancora molto vista può essere può essere beh io ad esempio che è una macchina simile alla tua in ambito diciamo dei colleghi insomma ambito ospedalieri video ma come mai il dottor rosso non c'ha appunto le macchine quelle belle ma non mi frega un cazzo sinceramente banalmente però ripeto c'è questo aspetto qua di relazione con gli altri e poi c'è anche l'aspetto di avere qualche cosa di misurabile che ci metta in pace con noi stessi rispetto al fatto di valere il denaro è misurabile l'acquisto che facciamo è misurabile e questa tendenza attuale nella misurazione anche di variabili che sono variabili esistenziali chiamiamole purtroppo al suo peso e quindi il denaro è indubbiamente una di queste variabili quindi credo che ci sia questa dimensione di autostima narcisismo rapporto tossico con le altre persone e ahimè anche l'aspetto di andare alla ricerca di partner partner di vita intendo esponendo in maniera grandiosa la propria potenza di acquisto che tra parentesi in italia è strano e questo te lo chiedo anche un po a te perché pochissimo ci si chiede no quanto guadagni in italia è un tabù ne parlavamo anche prima però d'altra parte lo vogliamo un po dire facendo vedere che se io ho un rolex o che ne so questi orologi bellissimi no in realtà guadagno tanto senza doverlo dire esatto è proprio quello il punto dopo ne volevo parlare tra l'altro di questi tabù di questo rigetto verso il denaro da un certo punto di vista ma credo che il punto sia proprio quello cioè quando non ti senti a tuo agio a dire quanto guadagni ma senti comunque la necessità di dirlo cerchi dei mezzi alternativi come possono essere degli acquisti molto grossi che possano dire appunto quanto guadagni senza che però effettivamente lo stai dicendo anche perché alcuni potrebbero dire che se tu mi dici quanto guadagni e guadagni tanto sei presuntuoso sei tutta una serie di cose al contrario se hai un bene molto costoso tu potresti dire che l'hai comprato per te che non ti interessa degli altri c'è un po di ipocrisia secondo me in questo perché essere presuntuosi nel dire la verità è ben strano lo so però molti non vogliono sentire la verità però penso io degli amici negli stati uniti io quando li ho conosciuti io ricordo proprio di una persona che la prima domanda mi ha fatto detto sei un medico quanto guadagni poi quando glielo ho detto mi ha detto ma come mai medico italiano allora si spiega tutto però ecco nel mondo anglosassone non c'è questo tabù c'è un po più di trasparenza forse in questo senso prima di saltare agli investimenti prima di saltare agli investimenti facciamo un po di di chiacchiera da barra visto che abbiamo parlato di spese c'è una spesa proprio nel tuo caso dove nonostante tu sia una psichiatra nonostante tu conosci tutti questi meccanismi a volte proprio cioè non riesci a resistere a volte cadi anche tu vittima di queste 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 dinamiche ok sì c'è e il fatto di essere psichiatra non è mai stato garanzia di non avere difetti maggiori anzi molto spesso una persona si dedica a studiare la materia grigia proprio perché è in qualche modo lui stesso vittima di bias di problemi io non ho mai avuto devo dire un vero e proprio disturbo mentale però comunque delle derive impulsività in delle aree specifiche te lo dico motociclismo credo di avere speso non lo so non ti so dire 100 150 non so mila euro in moto e adesso hai notato che conoscendo queste dinamiche la cosa è un po' migliorata si è migliorata grazie alla conoscenza ea mia moglie diciamo dopo che ho distrutto l'ennesima moto in pista ha iniziato a dirmi stellina mi hai un po' rotto in questo credo che i partner facciano tanto nel riportarci a volte sui sino è stata molto di aiuto proprio perché non è nel suo caso che quella che per nel mio caso è veramente una sorta di lo è stato una sorta di dipendenza dopaminica e infatti aveva a che vedere con momenti nel mio passato particolare in cui non ero così soddisfatto probabilmente e quindi io probabilmente sfogavo lì e chissà cosa vuol dire guidare una panigale v4 in una pista in una bella pista sa che è qualcosa di fortemente dopaminico in questo momento non ho più moto sembra un alcolista che dice sono valerio rosso non guido da non guido da o un kim co o uno scooter è uno scuterone con cui faccio i giri con mia moglie che adesso è molto più tranquilla senza mettersi otto tute e appollaiata dietro a delle moto a kawasaki eccetera tutte le varie moto aprilia quelle che ha avuto e devo dire che in questo momento sto molto meglio e mi rendo conto che la diciamo l'assenza di queste stimolazioni dopaminiche ha coinciso con il miglioramento della mia qualità di vita generale maggiore consapevolezza maggiore connessione ecco questa è la parola connessione con le persone attorno e col mondo ottimo ottimo ero proprio curioso di questa cosa non l'ho mai detta da nessuna parte questa esclusiva esclusiva andiamo tasto dolente investimenti ok quella difficoltà maggiore che sono sono diverse non possiamo sicuramente esaurirle tutte però quella più comune che trovo è iniziare un conto e risparmiare ma un conto è dire investo attivamente cioè rischio il mio capitale rischio che quel capitale non ci sia più esagerato però che si riduca quindi di avere delle perdite chi me la fa fare perché dovrei farlo ma no ma non mi serve c'è molta difficoltà che noto effettivamente e anche qui io più volte sul canale ho provato a dare delle risposte ma sono curioso di sentirla tua come mai ad esempio io già marco non riesco a iniziare a investire anche relativamente piccole cifre cos'è che mi può bloccare è la questione che tecnicamente si chiama pensiero previsionale e in particolar modo c'è il quello che nuovamente tecnicamente gli anglosassoni chiamano long term thinking a san francisco c'è un bellissimo istituto se vi capiterà di essere da quelle parti sul long term thinking e sulla sulla potenza che ha il coltivare il pensiero di lungo termine è interessante perché a parte il fatto che io ti ringrazio nuovamente pubblicamente perché ho fatto gran parte delle mie scelte di investimento anche la motivazione insomma sei stato un po il mio mentore nella in questa dimensione e ti ringrazio proprio autenticamente ecco però trovo io delle similitudine ad esempio fra investire sui mercati e investire in termini di salute prevenzione ok ci sono dei parallelismi interessanti innanzitutto ambe due hanno a che vedere appunto col fatto che sono forse dovrebbero perlomeno essere qualcosa di molto poco impulsive molto ragionato no molto strategico sia l'investire sia il decidere di investire in salute in prevenzione no in stili di vita buoni in ambe due i casi i risultati li avremo in un periodo lungo perché 5 10 anni 20 anni sono altri incerti potrebbero anche non averli esatto e nuovamente il parallelismo è questo mi hai proprio tolto le parole di bocca perché è vero io posso fare tutto quello che arriva poi un giorno magari mi cade una tegola sulla testa mi arriva una neoplasia che era geneticamente predeterminata che probabilmente e quindi uno dice ma cosa ho fatto no invece queste cose qua servono comunque perché sono la cosa più razionale da fare razionale non vuol dire onnipotente non vuol dire magica vuol dire che metti dalla tua la statistica certo metti dalla tua delle dimensioni forti che sono quelle matematiche e quindi ripeto la soluzione a mio parere è sempre quella di prima cosa capire bene capire bene che cosa vuol dire investire capire bene che cosa vuol dire iniziare un programma di prevenzione personale no per me per capitalizzare la propria salute e è molto importante non capire sommariamente non ascoltare il primo fuffaguro che ti dice non so di buttarti su non diciamo dove oppure in salute di riempirti di integratori o che ne so capire bene quali sono le variabili più importanti no nell'investimento ad esempio questa è stata ti porto il mio caso perché in effetti di me posso parlare meglio che di chiunque altro io ho dovuto capire bene cose che in realtà non mi avevano mai interessato grazie a te anche altre persone ovviamente ci sono molti divulgatori bravi negli stati uniti in europa eccetera capire bene ha fatto la differenza nel mio caso cose che pensavo fossero noiose pallose ma io sono un medico sono un motociclista suono voglio fare cose una volta capito bene mi sono appassionato ho capito che era un bel gioco qualcosa di bello da approfondire e a quel punto lì un pezzo era fatto ok il secondo pezzo è stato quello di iniziare a capire quali erano le regole del gioco cioè che veramente avrei dovuto fare delle cose che per me erano controintuitive no ad esempio non iniziare a scrollare tutto il giorno sul telefono e quindi questi aspetti impulsivi che sono impulsivi no che è per questo che insomma io credo ma poi me lo direi tu per me che le criptovalute vanno così tanto perché sono una sorta di slot machine io ho anche messo una piccola parte su criptovalute che nel periodo peggiore è andata male ma adesso sta salendo però credo che appena andrò in pari me ne toglierò ok questa è la mia la mia indole da divulgatore finanziario ha già notato 150 bias nella cosa che hai detto ok quindi sarebbe interessante parlare ok ok però va bene sì sì va bene però ti dico questa cosa mi sono reso conto ecco per me mi aveva generato disagio no sì sì ok questa cosa nello specifico che hai citato si chiama bias dell'ancoraggio ok ed è ed è semplicemente il rimanere fissato a dei prezzi che magari avevi visto in passato magari sono quelli a cui sei entrato e quindi nonostante tu sei insoddisfatto aspetti a vendere fino a che un asset non raggiunge di nuovo col prezzo però è un posto che lo raggiunga tra passato si è proprio quello il problema beh questo base dell'ancoraggio un base generale interessante i cani ma ne insegna esatto esatto grande e in effetti però adesso poi dopo mi spiegherai cosa devo fare però nel resto diciamo che ho imparato bene la lezione cioè sto cercando di ragionare in long term thinking non usare strumenti impulsivi per gestire strumenti di lungo termine e quindi un pezzo grosso è stato fatto allo stesso modo per la salute non posso immaginare di fare dei procedimenti che agiscono su di me di cui non sono perfettamente consapevole che non siano perfettamente basati sulle migliori evidenze scientifiche e che sappia che i risultati li vedrò nel lungo termine no metterò in cascina del fieno che potrò poi usufruire nel corso del tempo questa modalità di pensiero purtroppo funziona poco perché ha più che vedere con degli aspetti di felicità serenità tranquillità solidità che se messi a paragone con l'aspetto del piacere ne abbiamo parlato anche nel mio video rischiano di perdere se uno non osserva bene il campo da gioco no piacere felicità sono due cose completamente opposte sono due cose che vengono unite dalla mente dalla nostra mente comune ma in realtà il piacere è qualcosa che ha a che vedere con un aspetto specifico una funzione singola del nostro cervello quindi un cervello antico no che aveva un significato sul piano evolutivo no in un mondo in cui c'erano poche risorse se io trovavo una risorsa piena di grasso e di zucchero tendevo a buttarla giù più che potevo in previsione del fatto che non ci sarebbe stato più in futuro in realtà adesso se noi il mondo è cambiato il nostro cervello è sempre quello antico per cui il piacere non funziona più tanto come modalità per raggiungere la serenità invece la felicità il pensiero a lungo termine l'elaborazione di strategie sono scenari più complessi che richiedono consapevolezza le giuste informazioni che nel campo della finanza ad esempio tu potresti essere un emettitore e alle volte mi viene anche da dire che per arrivare al fine per compiere questo percorso fino alla fine ci va anche un mentore questa è una cosa che io in cui credo c'è qualche d'uno che sia online offline dovunque tu sia che che rappresenti un po l'incarnazione di quello che tu vuoi raggiungere che ti possa motivare come ispirazione ispirazionale esatto credo che quello sia anche un elemento importante e lo sceglierei con attenzione sì esatto anche perché allora io tendo a essere molto poco fan in generale delle persone anche di quelli che stimo tantissimo perché appunto negli anni mi è toccato avere questo occhio molto molto critico per cui mi permetto solo di aggiungere una chiosa che va benissimo se diventa un'ispirazione l'importante è sempre avere un occhio critico e anche la persona che stimi di più puoi fare lo scivolone quindi ricordare cioè io mi cercherò di ricordarmi sempre questo quindi va benissimo avere un modello in senso ampio però poi bisogna sempre ragionare con la propria testa sicuro il mentore perfetto è quello che ti dice io ti ho detto questo vai a controllare esatto esatto che tra l'altro se te lo sta dicendo ti sta anche dicendo che è sicuro di sei in un certo senso esatto diciamo che fra mentoring e setta lo spazio è breve proprio quello al punto stando sugli investimenti un altro tema ricorrente che vedo è quello di una eccessiva avversione al rischio nel senso che la propensione avversione al rischio è determinata anche da fattori che non possiamo necessariamente cambiare l'età ad esempio dei principali ma c'è la condizione socio economica in cui viviamo se abbiamo dei familiari a carico cioè queste non sono cose che possiamo cambiare e quindi hanno un impatto su devo rischiare tanto con i miei investimenti o poco però di base ho notato che anche nel ventenne c'è una versione al rischio veramente importante questo più in italia rispetto ad altri paesi secondo te dal punto di vista di psichiatra come mai in italia si rischia così poco io credo sia una questione di conoscenza nuovamente quindi di avere accesso a buone informazioni di heritage di tradizione quindi e in generale di elaborare in maniera consapevole le informazioni mi spiego meglio è vero che si rischia una ogni volta che entri in contatto con i mercati finanziari anche questi ragioni in termini solo di ets o che ne so qualunque sia lo strumento chiamiamolo anche più moderato ragionevole che tu vuoi utilizzare c'è un margine di rischio è chiaro d'altra parte uno il rischio lo minimizza in che modo decidendo quali sono le risorse che vuoi investire ovviamente possono essere risorse una percentuale ragionevole no così come ad esempio uno in realtà la gestione dei rischi noi ce l'abbiamo ogni mattina quando ci alziamo dal letto andiamo avanti no io vedo persone che dicono ah tu rischi a fare qualcosa poi in realtà non so vanno forte in macchina beh hai fatto l'esempio prima della moto direi che esatto esatto no e e tieni conto che l'aspetto del motociclismo è stato inversamente proporzione sono intersecate inversamente le queste variabili più inizio più iniziavo a investire e meno andavo in moto ora che ci penso interessante probabilmente nella mia mente c'è c'è qualche cosa che corrella queste due cose d'altra parte molte persone appunto lamentano di avere avversione al rischio quando in realtà fanno una marea di cose rischiose ti faccio un esempio banale nel campo della salute no ci sono delle idee che ne so devi smettere di fumare ma bere moderatamente puoi io non bevo però mangio tanto io mangio lì cioè ci sono delle idee che sono dei preconcetti e questi preconcetti qua spesso mettono fortemente in crisi l'idea che io faccio qualcosa di salutare no cioè ormai siamo tutti d'accordo sul fatto che fumare faccia male nessuno ti direbbe mai ma no ma una sigarettina ogni tanto no non è più non c'è più questo aspetto ok mentre invece dell'alcol che di cui io parlo haters che perché se parli mare dell'italia dell'alcol in italia dell'alcol del caffè della caffeina in italia sei ti devono ti vogliono trappare il fuoco traditore della patria traditore della patria adesso ancora ragione vuole dire ma un bicchiere di vino questo e quindi il rischio invece c'è anche nel bicchiere di vino e meno rischio ma non è zero il rischio zero lo tieni non bevendo ok in questo senso qua una persona può decidere in generale come gestire il rischio della propria vita no io ogni tanto un bicchiere di vino lo bevo se quando sono con mia mamma a capodanno mi offre il prosecchino e mi faccio sto prosecchino ok però so che in realtà nel corso dell'anno sono abbastanza consapevole di non voler rischiare questi termini ecco allo stesso modo gli investimenti hanno a che vedere con il mettere sul tavolo una serie di variabili conoscerle bene conoscerle perché molte persone ritornando all'alcol non sanno che l'alcol è cancerogeno genera demenza genera dipendenza se io so che cosa rischio se ho consapevolezza dello strumento che sto usando del capitale della percentuale di capitale che voglio utilizzare probabilmente il rischio diventa qualcos'altro e allo stesso modo ritorna l'aspetto culturale se io decido che finanziamenti investire e trading sono due cose diverse questo già un pezzo importante perché qua i tuoi i tuoi followers lo danno per scontato certo ma la prima volta che ho detto mamma io non voglio più fare la cosa della banca voglio farmi aprirmi il mio conto no di investimento e investire su questi strumenti perché me l'ha detto un mio amico no vabbè comunque polizia salve no vabbè comunque il stucco è quello no cioè nel senso a quel punto lì mia mamma ha detto ma tu vuoi giocare in borsa vuoi giocare in borsa mi ha detto c'è proprio quel termine giocare in borsa ecco lì è una questione di riscrivere un pochino questi elementi nella popolazione nella nostra tradizione mi viene anche in mente visto che citavi l'esempio dell'alcol tu fino a che non hai problemi non ti rendi conto del rischio che hai corso tra l'altro anche dovessi avere problemi non fai una diretta correlazione non lo riconduci a quello nel caso degli investimenti il tuo portafoglio lo vedi fluttuas hai esattamente che in realtà non è proprio così però che una parte dei risultati dato dalle tue scelte poi ci sono anche risultati dati dal mercato ovviamente quindi lì forse è un po più facile rendersi conto della rischiosità si c'è la misurabilità che è qualcosa di un po più spietato ecco però in realtà anche scelte di salute se l'occhio clinico giusto sa riconoscere queste oscillazioni anche nel breve periodo nell'alcol nel caffè nell'alimentazione diciamo che l'uscita la mia uscita dalla preoccupazione per il rischio è stato tanto rendermi conto che in moto rischiamo più che investire questo è sicuro ma poi capire essere consapevole decidere quanto del mio capitale allocare e insomma fare un percorso che fosse strategico e non improvvisato infatti guarda apri una parentesi sulle moto perché questa cosa non so se l'ho mai detta e secondo me ad alcuni farà abbastanza ridere io non credo di avere nessun tipo di fobia quindi non so altezza cioè puoi dirmi le puoi elencarmele tutte anche le cose molto più astratte paure di rimanere da solo della morte puoi elencarmele tutte ma se adesso tu mi dici sai andiamo in moto in centro che sarà due chilometri ti dico ah piuttosto va da piedi con me faresti bene probabilmente ok stiamo sull'italianità quindi su alcuni problemi ricorrenti in questo caso però vorrei parlare proprio di del tabù principe ossia il fatto che il denaro a volte è visto come la causa di tutti i mali come la cosa di cui non ha senso parlare addirittura chi ha fatto i soldi o ruba o è uno stronzo a volte invece del denaro è visto come ti basta pensare alla domanda cosa ti potrebbe rendere più felice in questo momento più soldi come mai c'è questa dicotomia e come mai secondo te non si riesce a vederlo per quello che è ossia un mezzo ma bisogna fare tutti questi costrutti strani cioè tu cosa ci vedi qui dentro questa è una domanda molto complicata e qua probabilmente essere psichiatra mi aiuta solo parzialmente avere una visione più lucida ti posso dire quello che penso io io penso che in italia c'è ancora la possibilità di fare del denaro in maniera illegale perché abbiamo un'evasione elevatissima evasione che non viene minimamente presa in considerazione nel senso che anzi è uno strumento quasi di compensazione in italia ormai mi viene da pensare c'è l'aspetto della criminalità organizzata in italia in cui il denaro e l'utilizzo del denaro maniera criminale è ancora inquina diciamo questo aspetto perché d'altra parte io sono al di là del complottismo questo è un mio parere io non vedo la necessità di usare il denaro cartaceo ad esempio non vedo cosa serva in italia il denaro cartaceo serve a corrompere andare a puttane e comprare droga se uno mi trova una quarta cosa cui serve il denaro mi ha convinto ecco non ne trovo un'altra e questo aspetto qua è legato all'indice quindi questo aspetto del denaro come elemento sporco sterco di satana viene definito da in alcuni ambiti e connesso per me al fatto che il denaro uno strumento in questo momento molto al servizio di una parte della nostra nazione ovviamente una parte che per me vive in maniera non solo illegale ma anche immorale e questo è importante l'altro giorno sentivo che il 47 per cento della popolazione italiana non dichiara nulla è un numero grosso lo so io soffro quando sento questi numeri quando pago gli f24 soffro esatto esatto anch'io che voglio voglio dire sono in questo senso qua mi hanno mi sono stato educato in maniera molto piana questa 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 attitudine questo è grosso perché all'estero ovviamente se uno evade le tasse in germania non devi andare negli stati uniti va in germania va in galera e quindi qua c'è un aspetto di denaro mischiata questi elementi o illegali o immorali che ambe due insomma sono quindi questionabili e sarebbe da discutere che a mio parere inquina lo scenario quando discutiamo di soldi ripeto credo sia un po questa la ragione ma è più un aspetto molto pratico come punto di vista interessante la discussione sul denaro contante è infinita perché ci sarebbe da parlare poi anche di aspetti un po più tecnici tipo moneta bancaria moneta legale ci sono anche cose più tecniche però indubbiamente l'italia è un paese dove i soldi servono anche a quello e quindi secondo me un po ci sta l'associazione secondo me ovviamente è ingigantita mentre invece volevo chiederti proprio sull'altro aspetto ripeto non è che non si possa evadere anche con modalità digitale per carità però diciamo che i criminali non è che girano cioè sia forse adesso gireranno con le chiavette anche con le cripto ma continua a girare con valigioni di soldi ecco mentre invece sull'altro aspetto sia sul fatto che spesso si sopravvaluti quanto il denaro può renderti felice questo credo sia una verità assoluta è una verità che raggiungi col tempo perché quando sei pivello e hai pochi soldi e non hai magari la fortuna di essere in una famiglia super super ricca cui il denaro semplicemente non è un problema non è una questione che vedi come un problema per meglio dire un problema che influenza negativamente la tua vita hai l'idea forse da giovane che il denaro faccia veramente una gran parte della felicità probabilmente può essere anche visto così in realtà quando il denaro non è un problema ti rendi conto che il denaro non è per niente tutto io me ne sono reso conto col tempo oggettivamente affrancandomi da alcune chiamiamole necessitari basi io non sono una persona ad esempio che ha bisogno appunto della porsche delle moto vabbè sì ok sto zitto però in realtà in questo momento della mia vita io fino a stasera non credo che spenderò più non so di quanto ma pochissimo non ho grandi bisogni li avevo quando non stavo bene ad esempio e questo è un po il punto che se non stai bene il denaro non è mai abbastanza probabilmente e se stai bene il denaro diventa qualche cos'altro diventa proprio uno strumento quindi è il tuo benessere a mio parere è qualche cosa che non dipende dall'aspetto del piacere quindi dopaminico perché il denaro può essere anche visto come solo quello ma diventa una persona sta bene quando il denaro diventa veramente un mezzo per raggiungere qualche altro obiettivo non sono molte persone gli chiedi che cos'è ecco una domanda che ti fa capire se una persona è felice sai qual è che cos'è che desideri veramente che cos'è che ti piace qual è la tua vera passione no la tua vera passione qualche cosa che non abbia a che vedere col comprare no in questo momento lo ripeto io e te stiamo facendo qualcosa che ci sta appassionando potremmo in teoria non so il denaro penso sia l'ultima cosa ne stiamo continuando a parlare ma sul piano pratico non ci viene neanche in mente credo sia un po questo l'aspetto desiderio e passione sono le cose che il denaro non può comprare perché non puoi desiderare veramente qualcosa se non lo desideri veramente questo è tautologico e allo stesso modo una passione non puoi comprarla sono persone che usano i soldi per vedere per testare tante passioni per cercare di capire se qualcosa li appassiona la ricerca di una passione che non hanno che può anche può anche essere un atteggiamento positivo può essere un atteggiamento positivo però io nella mia carriera diciamo di persona che ha avuto a che vedere che ha avuto a che fare con gli spazi interni tanta gente mi sono reso conto che la ricerca di una passione non la fai testandone tante ma cercando di entrare in connessione con te stessi con l'ambiente ci sa bene valerio io ti ho prosciugato ti ho chiesto di tutto però sono seriamente convinto che sia uscito fuori una bella chiacchierata quindi ti ringrazio grazie a te abbiamo un progettino io e te come video che vedremo se adesso questa chiacchierata è apprezzata probabilmente uscirà una cosa che ho in mente di fare con te diciamo più ecco spoiler a questa piccola cosa e ditemi voi se può essere interessante ossia scavare un po più dentro me quindi voi mi vedete sempre come il divulgatore però capiamo un pochino sulla dimensione più personale sempre legato ovviamente a questo aspetto cosa c'è magari ci sono degli aspetti più nascosti mi hai chiesto un po di cose di me ma vorrei io chiedere un po di cose bisogna fare il libro aperto bene valero ti ringrazio di nuovo è stato un piacere un piacere mio alla prossima grazie